Ho recentemente pubblicato un libro del pensatore brasiliano Plinio Correa de Oliveira chiamato Cum Santis Tuis, che contiene profili di santi. In questo libro Plinio Correa de Oliveira ci racconta da par suo la battaglia spirituale di alcune figure importanti del cristianesimo, una battaglia che li ha visti trionfare ai comandi del loro capitano, nostro Signore Gesù Cristo. Nella Bibbia infatti è detto Voi oggi siete prossimi a dar battaglia ai vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno, non temete, non vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a loro perché il Signore vostro Dio cammina con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. In effetti per Plinio Correa de Oliveira la vita cristiana è militanza, è guerra contro nemici esterni ed interni. Ha infatti detto il pensatore brasiliano Siamo figli della lotta, perché figli di una madre che lotta e schiaccia continuamente il capo al serpente. Siamo dei combattenti per vocazione e ogni volta che non ci sentiamo dei lottatori smarriamo la nostra fisionomia e il nostro spirito. Siamo nella lotta, viviamo nella lotta e speriamo poter morire nella lotta. Ecco questa citazione da il libro del professor Roberto De Mattei Plinio Correa de Oliveira, apostolo di Fatima, profeta del Regno di Maria. Insomma il messaggio è certamente molto chiaro e dà molto bene l'idea su quella prospettiva che attende il cristiano per una lotta che come detto è verso nemici esterni ma soprattutto verso quelli interni, verso se stessi. La battaglia verso se stessi è certamente la più dura e quella che ci costa di più. Sono certo che questa era l'esperienza anche di tutti i cavalieri. Lorenzo Scupoli, un famoso autore di spiritualità del passato, nel suo libro Il combattimento spirituale dice all'anima a cui il testo è diretto E perché, aspirando tu all'altezza di tanta perfezione, devi fare continua violenza a te stessa per espugnare generosamente e annullare tutte le voglie, grandi o piccole che siano. Necessariamente conviene che con ogni prontezza d'animo ti prepari a questa battaglia. Infatti la corona non si dà se non a quelli che combattono valorosamente. Siccome tale battaglia è più di ogni altra difficile, poiché combattendo contro di noi siamo insieme combattuti da noi stessi, così la vittoria ottenuta sarà più gloriosa di ogni altra e più cara a Dio. Dice bene Lorenzo Scupoli che la battaglia contro se stessi è la più ardua e difficile. Quello che Plinio Correa d'Olivera vuole ricordarci è che dobbiamo combattere accettando la paura che certamente ci visiterà, ma anche dandoci l'opportunità di trasformarla in coraggio. Può essere coraggioso solo chi accetta le proprie paure e sa guardarle in faccia senza fuggirle. Avremo dei momenti in cui dovremmo concedere una sconfitta, ma avremo sempre gli occhi fissi alla vittoria finale.